Faccio un po' fatica, ma quando arrivo a tre metri di altezza, compare nel cielo un altro gruppo di persone che volano. Sembrano venire da tempi passati. Qualcuno tiene pergamene scritte, altri piccoli rotoli aperti, istoriati. Sono molto emozionata. Mi sento come se avessi raggiunto un popolo di cui faccio parte. Le mani raccolte sulla bocca, le pose timide pronte a scrosciare di libertà. Gli Eurythmics ad alto volume in macchina di notte, sdraiata sul sedile, attorcigliata tra fratello, fratellastro e sorellastra, a guardare fare illuminati che sfrecciano sulla nostra testa. Mentre un canto fragoroso, un'enfia empatia, sembra essere la causa e l'effetto, conseguenza del mondo intero. L'ampio corridoio di sabbia univa la vegetazione fitta al tempestoso oceano indiano. A incorniciare l'entrata nelle onde travolgenti, c'erano una caverna abitata da centinaia di pipistrelli e un enorme albero degli spiriti. La pianta aveva un'altezza incredibile e solo a metà del tronco terminava l'intreccio complesso di radici che si univano al fusto possente. Di notte il vento si infilava tra i rizomi attorcigliati e faceva risuonare la voce dei morti. Giocammo di più sopra al dirupo, su quella terra secca e polverosa circondata dalla foresta. C'era un bellissimo albero argentato sul bordo del precipizio. I suoi rami senza fogliame sembravano braccia arcuate verso il cielo in cerca d'acqua. Era lievemente inclinato verso la spiaggia e a noi faceva la vista vertiginosa verso il vuoto. Ci disse che Laura era morta. L'orologio della cucina si era fermato. Mio zio affittò un piccolo aereo privato. Io, infidanzato di mia madre e mio zio Lodovico, sorvolammo un mare candido di nuvole sul quale le montagne sembravano galleggiare come isole. Mi sembrava di aver perso un'intera fetta di realtà in un mare profondo e non più comprensibile. Il suo corpo era dentro a una cella frigorifera. Gli infermieri mi raccomandarono di non toccarla perché poteva essere infetta. Mi protesi ugualmente per sfiorarla, ma uno di loro mi prese sotto le ascelle e mi bloccò. Uscì dall'ospedale sotto shock. Seguivo quei due uomini che non amavo a un metro di distanza. Quando arrivamo a una fermata del bus mi sedetti sullo scalino di un portoncino. Mi passò davanti un signore francese e mi lanciò una monetina. Il pullman era pieno zeppo, ma il cloro e il calore della doccia ci facevano sentire intoccabili. A un tratto Mada, tenendomi la mano, disse con voce stridula e soddisfatta. Mamma, nello spogliatoio c'era una donna che aveva le tette ancora più molli delle tue. Credetti di sprofondare. Mi girai attorno, guardando i passeggeri che ci circondavano, ed ebbi la conferma che avevano sentito perfettamente. L'indonesiana, per uno strano scherzo divino un po' meschino e dispettoso, aveva pertanto generato tre gemelli i quali, pur provenendo da embrioni impiantati in utero, erano un chiaro segnale di competizione tra prole. Nel giro di un anno quegli esseri trotterellavano per casa. Noi due, quando i uscivano per una commissione, raccoglievamo tutti i cuscini in un unico punto del salotto e lanciavamo i bambini dal primo piano, mettendo alla prova il loro destino. La notte mi riportava in modo ricorrente davanti a un macchinario. Grande quanto una piccola stanza, era pieno di sagome cubiche e conformazioni serpeggianti, avvolte da cavi ignoti su zoccolature metalliche. Un poligono misterioso, il cui funzionamento mi era oscuro. Era sempre rotto e dovevo ripararlo, come in tutti i sogni precedenti. Quella volta era di notte in mezzo al giardino di una vecchia casa coloniale. Intorno le fronde di grandi abeti ondeggiavano sui sussurri di illusioni spettrali. Mi suggerivano qualcosa, ma parlavano una lingua sconosciuta. Assorbivo il segreto lentamente, per mezzo di un distillato di resina e vita.